Questo posto inizia a farmi venire i brividi. Ehi! La statua è un grosso blocco di cemento. Ti serviranno delle munizioni pesanti per farle qualcosa. O qualcosa di volante con una mitragliatrice fissa. Sei sveglio, ti inventerai qualcosa. Va bene! Le senti anche tu le voci? O sto diventando matto? Ah, è la mia radio. Eccolo! Non ci riesco, dimmi cosa fare! Ho scacciato la bomba! Lo vedo! Questo è già stato! Non vedo le cose! Salve! Sono il signor Morse! Morse dall'alto! Bersaglio avvistato! Bumpe in arrivo! Fuoco! Siamo eletto capiù capaci di guidarci. Abbiamo combattuto guerre senza senso, ma ora siamo loro i più soddisfatti, che vogliono qualcosa di più. E dobbiamo cogliere l'amore. Stai al riparo! Ci sono un sacco di cecchini e cazzi vari! Stai al riparo! Quelle teste di cazzo! Sì! Trova! Aiuto! Trova! 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 Morte a tutti i miscredenti! Il padre è venuto! Siete! D'azienda! Non lo vedi! Qui! D'aggiù! Di nuovo! Occhio in alto! Stanno arrivando degli elicotteri! Occhio in alto! Occhio in alto! Occhio in alto! Occhio in alto! Le pattuglie dicono che ci sono altri elicotteri in arrivo Occhi aperti Vedo quello che hai fatto So cosa stai facendo Non sono arrabbiato Ci vediamo tra un po' I miei uomini stanno arrivando per manifestarti il mio disappunto Riecco l'eredio Riecco l'eredio Riecco l'eredio Ehi, se vuoi creare qualche altro problema alla setta o un'idea Fate ci tiene la sua coppia personale delle farneticazioni di Joseph lì dentro Sali nella statua e brucia tutto Falle vedere cosa succede a mettersi contro la gente sbagliata Riecco l'eredio Riecco l'eredio Che spettacolo Joseph Seed inizierà a cagarsi addosso e a pagarne le conseguenze Dovrà rendere conto del libro bruciato e della statua dissacrata Che un bel lavoro Riecco l'eredio 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 Sto arrivando! E chiedere scusa a tutti i membri dell'Edens Gate, e in particolar modo al padre, Joseph Seed. Non dovevamo venire qui. Non volevamo farlo. Le nostre azioni alla Chiesa sono state iniziate da un unico singolo vice, che... Ha agito con perpidia. Purtroppo ha agito con dolo. Questo vice ha ignorato gli ordini diretti e ha agito per se stesso. Verrà trovato e verrà trattato di conseguenza. Vi prego di capire che non ci sono pericoli per l'Edens Gate o per la famiglia. Grazie! Grazie! Grazie a tutti